Saranno diversi round, il primo round sarà conoscenza, quindi ruota libera, parlerete un po' minchia, bla bla Per un attimo Era questo il gesto che magari farà intendibile Era conoscenza No era per dare le lanze al gioco Ah che tipo via Sì esatto era questo E nulla Alexa timer di 5 minuti 5 minuti a partire da ora Via Comunque le tubature sono rotte No poi iniziate No noi siamo dall'altra parte praticamente Cosa fai nella vita? Ma vabbè non hai capito il gioco Ma Nina di Dino Se no non ti sposi Dai Flick o flack Mentre tu Angio? Sì Mi frega un cazzo Ma sti Sto aspettando Va bene iniziate pure di chiudere gli occhi Quindi cosa fai nella vita? Compro macchine per un'azienda Ok tu hai l'azienda? No Di chi? È un'automobile? È del mio capo Dipendente? Sì una Ferrari No Sei un'automobile Ti ho detto sì una Ferrari Ah sei una Ferrari? Eh Vabbè Andate pure 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 Io studio Eh lavoro con i social Principalmente scrivo Cosa scrivi? Libri Ah Romanzi autobiografici Sì Veramente? Sì No pensavo sono presi No Sono sempre Ma ne hai già pubblicato qualcuno? Uno Eh in quest'anno dovrebbero uscire due Io c'era il primo comunque Come l'ha presa per il culo? Certo su internet Non ho il telefono qua Non crede che io scriva libri di fila? No ma nemmeno io credo La c'è in due Ma nessuno però io posso Allora fate gli scherzi Un cello dal cavale Su carattere Quanto è pure avanti? Quanti anni hai? 22 Io 20 20 Sei 2000 2 Quando fai il compleanno? 27 marzo Ariete Ariete Mi mamma è 25 Marzo? Anche lei Ariete Molto Ariete Grazie Stava difficile Il segno migliore Funziona bene Funziona bene Con le ore si trovano bene Però odio parlare di oroscopo Ma io devo assolutamente un cazzo Di solito No È un po' scontato Ma tu non c'è Paolo Fox No no Paolo Fox No Paolo Fox No perché non è da chi Però gli altri E' per perdere il controllo Quale è il segno Che ha avuto più affinità? Leone Cosa? Chiaramente Due segni di fuoco Fuego Ci sta Ci sta E sì Un po' complicato Secondo me potrebbe finire a scannarsi Leone Ariete Un po' troppo E che segno sei? Leone Sì È troppo così tirami piatti Probabile 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 Il lavoro che fai ti piace o vorresti cambiarlo? No Mi piace molto Non ti piace molto? Non ti piace molto? Ti piace molto? Un anno Che scuola hai fatto? Il suo linguistico E' un po' di te PAM 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 Non c'è No Trovata Trovata Eccola 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 qua Artistico Sì Dopo però hai preso una strada completamente diversa Ho iniziato a studiare neuroscienze applicate Un po' di cose varie Difficile Una delle tante cazzate cadendo Sì Sparare cazzate Però di solito funzionano Sparare Fallo con Concordo C'è parole d'oro Parole Sparare cazzate Non sarei riuscito È chiaro C'è l'ho scritto bene A posto Vai Di dove sei? L'origine della Sicilia Bisogna dire che sei Sicilia 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 si scoppa Sicilia si scoppa Punto escapativo Beh però i ragazzi del sud Tanta roba Mori Tatuati Ti bacio Grazie per la sub Ti ho preso il mio sub Andata avanti Andata avanti tranquillamente Sei mai stato con uno del sud? No A ridere Di dove è il tuo ex? L'ultimo Sì l'ultimo Quello più importante E rilevante Milano Milano Ci sta Che lavoro faceva? A me a me Vendo Sto facendo brutto al tuo ex Sto facendo brutto al tuo ex No per capire subito Se ci sono legami Perché se ci dovesse essere legami Meglio tagliare subito Ah ok Quindi nel dubbio Eliminiamo subito Eh sì esatto Togliamoci subito La problematica principale Via Dato che il segno L'abbiamo già tolto Passiamo all'ex Così magari la strada Quanto tempo fa Mi siete lasciati Giusto così Per Chi? Tu Ma il tuo ex è brutto? Bomba Non posso fare un appello A tuo ex? Prego Fa un culo Rosso 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 Iuri mi ha bloccato su Instagram È il momento di farmi sbannare Sbrigati Voglio sapere il nome E tu non mi dare ordini mai più Ah Scusa vai avanti No comunque sto prendendo appunti Vai dopo 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 dico No io due anni e mezzo fa L'ultima mia relazione Fino due anni e mezzo fa Bomba Quanto tempo fa Dimenticata ormai Proprio lì chiusa Di Milano Rosso 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 Quando decidi di comprare Una cane decente Con i soldi Che non dai ai moderatori Dio bestia Oh finito È finito Ok ok Alexa stoppati Mi obbedisce sempre Ma che cazzo Cazzo vuoi dire una mia ove? No Non sono Jasmine Ma però C'è Jasmine No Ampuro 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 Sei Jasmine No Non paragoniamo la merda Con la nutella No 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 Dissi Dissi Convince Steven Chi è Il vincitore del mondiale 2022 Cosa ti ha suscitato Questa Questo nervosismo E fa anche domande E' psicologo Anche No mi interesserebbe capire No allora innanzitutto Io non riesco a Cercare foto di Yuri Pennisi Nudo su internet No Eccolo Eccolo Non li fanno Non è lui È troppo alto Sembravi te Vabbè Vabbè Comunque non è importante Comunque Facciamo pure lo switch Eccolo